Sì, chi è? Signora, ma quant'acqua ho preso? Ma che ne so, ma chi è? Ma come, mi hanno detto che è veggente, sa persino la cipresata della prossima bolletta del gas È vero, ma lei che ne sa? Lei sarà veggente, ma io sono informato, lei ha tutto compreso Da oggi c'è gas tutto compreso Puoi scegliere la tua taglia e se la rispetti sai in anticipo quanto paghi E da giugno a settembre per la tua taglia paghi la metà Ancora lei? Allora lo vede che è veggente Ho il videocitofono Grazie